il treno regionale di trenitalia proveniente da reggio calabria centrale è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale di trenitalia per reggio calabria centrale è in partenza dal binario 1 non sono previste fermate intermedie il treno regionale di trenitalia proveniente da reggio calabria centrale è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla